Sì, questa è la partita possiamo dire di carattere perché secondo me oggi era la nostra, complimenti all'Atalanta, però la nostra magari peggiore prestazione sul punto di vista del gioco e usciamo con tre punti, possiamo quasi dire era una rapina perché finire a primo tempo con un gol di vantaggio non si potevamo pensare quindi era importante, il ministro aveva detto che sarebbe una battaglia, secondo me potevamo fare molto di più dal punto di vista duelli, dal punto di vista della personalità però siamo contenti perché come ho detto da quando è arrivato il ministro le prestazioni ci sono, questa era secondo me la nostra prestazione meno buona soprattutto al primo tempo il secondo tempo con il cambio di tattiche ci ha donato un po' di più di forza al centrocampo e sì era importante per noi fare un risultato non si aspettavamo la vittoria quando abbiamo visto come era difficile il primo tempo però adesso abbiamo Crotone a casa che può diventare finalmente la partita della svolta tante volte successe delle partite che dovevamo vincere però è sempre fuori casa, mi ricordo delle partite come Carpi, Frosinone, questa qua l'avevamo a casa quindi non abbiamo scuse per uscire senza la vittoria Hai parlato benissimo di quello che è stato il primo tempo di tanta sofferenza e quindi anche per voi attaccanti vuoi che di conseguenza non stavi facendo la tua miglior partita, poi invece Del Neri appunto dicevamo prima ti ha spostato al centro sei stata anche un po' la mossa tattica e il chiavistello per scardinare la difesa dell'Atalanta e da lì poi da quando loro sono calati soprattutto è iniziata proprio un'altra partita Sì sì ma dobbiamo anche fare i complimenti perché sinceramente ho giocato tante partite in Serie A poche volte una squadra mi ha messo così in difficoltà, attaccavano molto bene, hanno un sistema di gioco molto particolare, molto complicato da affrontare si è visto perché se non avevamo Carnesi anche un po' di fortuna al primo tempo poteva essere 3-0 quindi oggi siamo fortunati, penso la partita che abbiamo fatto vedere almeno carattere dal punto di vista carattere abbiamo fatto gruppo, squadra perché era molto complicato Siamo parlati tanto sul campo per trovare delle soluzioni e alla fine sì con un grandissimo gol di Fofanà che fa il suo quarto gol per un centrocampista di questa età è molto importante e sì possiamo essere orgogliosi perché venire a prendere i punti qua è molto complicato L'ultima infatti è un po' una battuta Fofanà, quarto gol sempre in trasferta, ha tolto tutte le vagnatele dei vari stati d'Italia adesso dovete farlo un po' allenare per farlo segnare in casa perché lo merita anche il pubblico di casa un gol di Fofanà Sì sì, i gol arrivano quando il giocatore sta bene perché oggi abbiamo calciato poco in porta siamo stati molto realizzati perché abbiamo un realismo perfetto, non so quante volte abbiamo calciato però 4 volte 3 gol e quindi fuori casa sì perché per esempio con Cagliari abbiamo giocato una delle nostre migliori partite fuori casa abbiamo calciato 10 volte in porta senza facendo solo un gol e dai le partite cambiano però adesso è la partita come ho detto, la partita è molto importante per noi e Crotone perché adesso la classifica è molto stretta e può dare veramente un lancio alla nostra stagione